Buongiorno a tutti, sono la maestra Gabriella Braca della scuola Piero Bertolini di Castel Maggiore e partecipo alla maratona di lettura degli insegnanti di Castel Maggiore, leggendo per voi il capitolo 19 del libro Meno male che il tempo era bello, di Florentinard, Camelo Zampa, editore. Azzurro, verde, rosa. La cena, che era iniziata così gioiosa, si concluse in un'atmosfera cupa. All'improvviso tutta la vastità della catastrofe sembrò abbattersi sul piccolo gruppo. Erano davvero perduti in mare aperto, praticamente senza acqua né cibo, senza mezzi di comunicazione e quasi senza speranze. In silenzio ognuno pensava alla propria famiglia, agli amici, alla casa. Su tutti i volti si leggevano il dolore e la prensione. La signora Perez non tardò a tamponarsi gli occhi e grosse lacrime correvano giù per le guance di Salima. Sara non riuscì a trattenere un profondo sospiro. Perfino Said, che non aveva alcuna voglia di tornare a casa, si abbandonò alla malinconia. Fu allora che Yvon Dubigny chiese un momento di attenzione. I commensali alzarono verso di lui gli sguardi stanchi. Il sole tramonterà tra un'ora circa, annunciò. È più di quanto ci serve per stendere i teloni che raccoglieranno l'acqua. Ma non pioverà mai, gemette Marilu, indicando il cielo di un blu implacabile. Non c'è solo l'acqua piovana, rispose con gentilezza al professore. C'è la rugiada. Certe notti, verso l'alba, l'umidità dell'aria si condensa sulle superfici fredde. In certi deserti si riesce a raccogliere abbastanza acqua da annaffiare degli orti. Dobbiamo provarci. Come no, fece Abib alzando le spalle. Un'altra storia, tanto per darcela a bere, brontolò Turgù. Un po' di educazione, urlò Sara, battendo il pugno sul tavolo così forte che tutti sobbalsarono. Se vi si dà un ordine, va eseguito. L'assemblea guardò la giovane bibliotecaria con stupore. Nessuna traccia di disperazione adombrava più il suo viso. Gli occhi neri bruciavano di un'indignazione feroce. Said ridacchiò piano. Se fossi in voi, ragazzi, mi darei una mossa, prima che vi colpisca con quello sguardo che uccide. L'osservazione strappò qualche sorriso attorno al tavolo. Come per magia, le nubi di tristezza che opprimevano le menti e i cuori si dissiparono. L'equipaggio ritrovò nuova energia. Furono incaricati dei volontari per il lavaggio dei piatti. Gli altri iniziarono a essare le pesanti tende gommate sopra le antene del tetto, come sugli alberi di una nave. Yvon Dubigny indicò loro come piegare la parte inferiore delle tele per farne delle grondaie che finivano sopra i serbiatoi. Terminarono i preparativi nel momento in cui il sole si immergeva nell'orizzonte. Com'è sereno il cielo! È il tempo ideale per vedere un raggio verde, si compiacque il professore. È un raggio bio? domandò Jean-Marie. No, è una leggenda, rise Sara. Niente affatto. È un fenomeno luminoso spiegabile scientificamente. È dovuto alla diffrazione della luce che, attraversando un'atmosfera purissima, lascia passare solo le onde verdi dello spettro. Di fronte alle loro facce perplesse, l'insegnante si interruppe. In ogni caso, non voglio rovinarvi la poesia del momento. Sappiate solo che per qualche secondo appare sopra il sole un raggio verde che attraversa tutto il cielo, un po' come un laser. Wow, mi piacerebbe troppo vederne uno. Si entusiasmò Rosalie. È un fenomeno rarissimo, ma dal momento che stiamo navigando a bordo di una biblioteca, dopo tutto, perché escluderlo? State molto attenti, perché dura un attimo. Appoggiati al parapetto del tetto, i ragazzi sgranarono gli occhi verso il tramonto. Vedo del verde là, esclamò Marilu. Sciocchezze, la contraddisse Said. È tutto rosso, sei daltoniana tu. Daltonica, lo corresse Karim. Non è rosso, è scarlatto, arancione. Malva e rosa, precisò Rosalie. Said si accigliò e si trincerò dietro un silenzio imbronciato. In effetti cambia di continuo, osservò Jean Henry. È troppo, troppo magnifico, sospirò Fatou. Sopra la lunga fila delle teste allineate, Sarah e Yvonne si scambiarono un sorriso intenerito. Quella sera il sole non offrì preziosi raggi verdi ai suoi ammiratori, ma una sinfonia di porpora e oro che illuminò il loro sonno fino al buio della notte. Sbadigliando e stiracchiandosi, lasciarono uno alla volta il posto di osservazione per raggiungere le cabine. In fondo alle scale la signora Perez, inflessibile, li aspettava per costringerli a una deviazione in sala da bagno, dove ormai ci si rinfrescava con l'acqua salata. Sarah sorvegliò le ragazze mentre andavano a letto, rimboccò loro le coperte, diede baci, le rassicurò. Poi raggiunse il suo giaciglio di cuscini per il meritato riposo prima del turno di guardia al mattino presto. Si preparò un guanciale piegando i jeans dentro alla maglietta e si stese, accompagnata da un fruscio di carta. Incuriosita dal rumore, si sollevò su un gomito e scoprì una busta bianca infilata tra due cuscini. «C'è posta per lei?» domandò la signora Perez dal letto vicino. Sarah aprì la busta da cui cadde una pioggia di rose di carta. «Oh, ma che graziose! ma... ma...» «Qualcuno qui ha un innamorato!» ridacchiò la signora Perez. «Ma andiamo!» si schermi Sarah. «È solo un gesto di amicizia. Di sicuro saranno state le ragazze». «Un altro giorno forse, ma non oggi». «Per... perché?» farfugliò Sarah. «Che giorno è?» «Il 14 febbraio». vedendo che Sarah non reagiva, le bisbigliò. «È San Valentino!» «Oh, ma... chi...» «Ah, per questo tesoro non ha che l'imbarazzo della scelta!» rise la signora Perez. «Io un'idea me la sono fatta!» Trassognata, Sarah guardò le rose come se potessero rivelarle degli indizi. Notò che erano state ritagliate da una rivista di giardinaggio, ma non riuscì a capire nient'altro. Nell'oscurità la giovane passò in assegna i possibili spasimanti. Si addormentò con il sorriso sulle labbra.